Quando arrivi in cima alla montagna e vedi un paradiso del genere, cosa puoi volere di più? I colori, la luce, l'aria? L'arrivo, la luce, 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 la luce. La luce è sempre una buona ristessa. Una grande soddisfazione per il maestro di sci, a vedere i propri allievi crescere di volta in volta, soprattutto con il sorriso sulle labbra, divertendosi. Durante l'inverno sto nel mio studio, mi viene a trovare qualche amico, accendo il fuoco. Quando scende la prima neve mi sembra di tornare bambina e rivivere tutte le emozioni del passato. Giocare con i miei amici e divertirmi all'aria aperta. Durante la stagione invernale il momento che preferisco è quando il sole tramonta e io posso preparare meglio le piste per il giorno dopo. È un duro lavoro ma è quello che amo. Grazie! Grazie.